Abbiamo utilizzato un principio molto importante, dalla tostatura del caffè al confezionamento del caffè nel tempo più breve possibile. Normalmente dal processo di tostatura al confezionamento nella nostra azienda passano massimo due o tre minuti perché il caffè viene scaricato dalla torrefattrice, inviato nei macinatori, confezionato immediatamente e sulla confezione viene applicata una valvola che noi chiamiamo salvaroma che in realtà è una valvola unidirezionale. Quindi lascia uscire il gas in eccesso ma lasciando all'interno del sacchetto comunque gran parte del gas e quindi degli aromi caratteristici del caffè appena macinato. Questo garantisce una fragranza maggiore, una corposità più delineata e una morbidezza maggiore del prodotto del caffè. Tanto è che siamo stati ultimamente proprio premiati dal Quality Awards che in realtà è un test condotto alla cieca su un campione di 300 consumatori che hanno identificato il nostro come prodotto vincente per il caffè Moga.